La ricchezza della Spagna nel quarto trimestre del 2011 si è contratta dello 0,3%. Il calo del PIL, il primo della crisi del 2009, apre la strada a quella che molto probabilmente sarà recessione, nel caso in cui dovessero essere confermate le previsioni di un'ulteriore contrazione per il primo trimestre del 2012. I risultati sono la conseguenza dell'effetto del piano di austerità sulla diminuzione della domanda interna già in calo.